Il mio personaggio in tre aggettivi, oddio, è forte, innamorata e fragile. Qual è la cosa che avete in comune di più, te e il tuo personaggio? Un saluto per un saluto di Kaminsul. Per chi? Kaminsul. Ciao Kaminsul. Aiuto. Il film è un'altra tipologia, mi piacerebbe il Vitor. D'ambardare. Bellissimo. Volevo chiederti, qual è la cosa che avete di più in comune, te e il tuo personaggio, dopo tutti questi anni che siete insieme? La fragilità e l'essere forte. Invece, se potessi sceglierti il tuo nome da trapper, quale sarebbe? Uh, Black Star. Bellissimo, grazie. Grazie, grazie mille. Marina, ma tutto questo successo clamoroso che hai avuto, ma te lo saresti aspettata? Assolutamente no. Cioè, la serie ha altro successo, ma tu sei stato il personaggio più amato, si può dire, di questa terza stagione. Non posso che esserne grata di tutto questo. Non mi aspettavo per niente un successo così grande e ogni giorno quando mi sveglio dico grazie. E in questa quarta stagione invece farai famiglie. Questa quarta stagione sono scintille. Esplosiva. Sarai micerella bis praticamente. Esattamente. Grazie.